Dal 2005 abbiamo cominciato a far crescere il numero di posti letto per gli studenti, aumentando la quantità ma molto anche la qualità. Questo è l'ennesimo intervento che facciamo qui a San Nicola, il quartiere collinare di Castelletto, a due passi all'albergo dei poveri che è diventato e diventerà ancora di più sull'università. Sono 120 posti qui, in un vecchio convento del Seicento, poi si completerà anche Salita Neve giù a Principe, proprio nella zona di Balbi, e a questo punto verso fine anno avremo 1200 posti contro i 600 di 7-8 anni fa, quindi un addoppio seco in pochi anni. Questo comincia ad avere un bel riscontro anche sull'università che vede aumentare i fuori sede e in modo significativo anche gli straniere. Beh sì, un'iniziativa per giovani, una ristrutturazione importante di un convento San Nicola nel cuore della città, 120 posti letto per studenti universitari che con la borsa possono proseguire gli studi fino alla laurea, anche se le famiglie non sono in condizioni di poter mantenerli agli studi. Quindi oggi abbiamo restituito alla città non solo un pezzo importante di un immobile straordinario, ma anche riconfermiamo l'impegno per i giovani che sono evidentemente poi il nostro futuro. Noi a breve siamo pronti ad aprire proprio ai ragazzi, con la prossima inaugurazione prima dell'anno arriviamo a 1200 posti letto, un programma nato con un investimento dello Stato, della Regione molto importante che ha raddoppiato nell'arco di sei anni le residenze.